1700 euro 1700 euro per il signor Montemurro 2,3 per il gruppo Gallitelli Applausi ragazzi, signori 2005 2005 il gruppo Montemurro Bellissima questa cosa stasera, complimenti Grande spettacolo 2500 euro 2,7 il gruppo Gallitelli Applausi 2,7 il gruppo Gallitelli 3300 euro il gruppo Montemurro 3,9 il gruppo Gallitelli 5,100 per il gruppo Montemurro A grande applauso, su, grande applauso Stravignante, stravignante questa serata 5.500 euro Abbiamo 6.400 euro per il gruppo Gallitelli Siamo a 7.000 7.200 per il gruppo Montemurro Grande applauso Questo è il meritatissimo applauso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.